bentornati martedì 2 ottobre 2018 per cominciare subito il riscaldamento di oggi 5 minuti sulla south bike seguiti dal pvc burgner warm up e dal burgner warm up completo anche questa volta fatto però con il bilanciere tutto questo per preparare il lavoro successivo che sarà di sollevamento pesi dovremo infatti andare a costruire un set di due snatch balance fatto questo subito il world del giorno 5 round for time 200 metri run 40 double unders 9 hang squat snatch i pesi come al solito qua di lato a domani e buon world